ciao a tutti ragazzi benvenuti non è vero era qualcuno che 05 ok si sta generando il pisello per lui ok vai 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 su portazione adesso c'è il 22 luglio sarà lì sì sarò lì per il 22 luglio non è vero è una cazzata poi che cazzo ve ne frega a me che cacchio ve ne frega di me ho solo 5 iscritti e sono una merda è uguale dai stai entrando allora vabbè è alle 05 come cazzo si chiama allora allora ho già fatto la crafting table problematica allora si lo faccio a te te lo lancio qua lo c'è una pubblicità per il suo canale no si no è beato e beato a pubblicità di pisello grande e basta c'è finita la pubblicità che cazzata allora qua c'è la caverna di merda vedi la caverna di tarzan si tarzan oh non si insulta tarzan oh che la città che tu deve che il penne costa chi lo insulta tarzan bravo zio eh per questo video se vuoi almeno un like guarda un like perché 100 non ci arriviamo lo so già ma va bene ecco alle 0 che è inizionata la partita ma va bene anche 5 like oh ho già trovato che è buono 5 like raga se ce la arriviamo guarda se ce la fate almeno 5 like si vai per favore almeno 5 like raga almeno 5 like allora se vi piace questa serie scrivetemelo sotto nei commenti che andiamo avanti si si vai abbiamo 5 like facciamo un scherzo d'angela vai si 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 raga facciamo uno scherzo d'angela in diretta la vede che è angela caccavalle di live fammi vedere quella che continua a fare la casa allora questo qua è Ale Gaming 05 bellissima proprio io ho metà Steve metà uomo eh no allora Steve cos'è vabbè faglielo vedere dalla da dove metti la natura guardate chi sono io cioè per esempio sono così e guardate vabbè si è fatto la sua scritta non mi posso girare ecco cazzi è arrivato un messaggio da qualcuno se volete sapere come giocare senza usare multiplayer master basta che mettete roto wifi avete la vostra password eee eh si va bene se tu vuoi su multiplayer master io posso entrare con il tuo roto wifi e si cazzo rubi mio wifi ma non serve per i tuoi iscritti ma dai mi hai chiuso dentro dai mi hai chiuso dentro basta no aspetta non ho ancora preso della pietra c'è chi rendi conto raga non ho ancora preso della pietra io non ho 35 di pietra puttana troia noiii mi faccio una cetta aspetta nooo bastardo mi faccio una cetta mi faccio una cetta mi faccio una cetta con la seconda non sei alla terza ma cazzo faccio non so che cosa fare ragazzi vedi prossimo video no no cazzo sta di giù fate quel cazzo che volete se non volete mettere like oh che schifo no non li mettete se non volete poi è una vostra scelta magari non se li volete mettere metteteli che mi fate un bel video almeno ragazzi dove li sostenerli non conosco come allora se 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 vi iscrivete un pochino o se no se mettete like vi giuro non faccio un giorno un video ogni settimana cazzo si magari non vi iscrivete non vi iscrivete dovete iscrivervi no ragazzi scusatemi eh no me ne frega un mio amico sta guardando il vostro caro Dexter si sentono abbassa ha trovato i diamanti si cazzo è impossibile ha trovato i diamanti neanche io non siamo neanche arrivati a metà bed work cazzo eh si lavorare a letto sai com'è zio sotto coperte ecco quello la avete capito no se volete qualche altra roba qualche altra roba tipo pisello pisello però quello lì no aspetta devi fare ancora quello devi fare ancora quello Ale continua a scrivermi cazzate invece di lavorare perché tanto che cazzo se ne frega lui bed work no bed rock bed rock bravo e da un anno che giochiamo agli assunti vabbè 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 mi ha trovato un villaggio io mi frego tutto io mi frego tutto nella nella cappana no ci nasconde no facciamola a casa la si villager mi posso ammazzare? no uccidi no coltivo no coltivo lei cagate oh ci accampiamola ci accampiamola che cazzo sei eccola io mi frego le librerie fregati fregati vabbè nella fabbrica nella fabbrica dove ce la lavano come cazzo si chiama? mica zii abbiamo trovato un villaggio e tu vai sulla l'ho trovato io il villaggio ora eh si dai guarda se tu non ti hai curati ovviamente io so che non c'è la cappana intanto ti ho trovato un carbone? non c'è e vabbè e tu non hai un cazzo hai solo pieta mica beh almeno avete già trovato un villaggio no? si che è pieno di villaggio e vedete vedete fate un po' di scambi come c'è si no come cazzo hai accorto io voglio il bambinato cambia cazzo mi da oh zio 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 gli dai due diciotto grano e lui ti da un buono raga io vado subito a coltivare buono buono io li rubo le cazzate a meno poi abbiamo le barbabietole entri barbabietole che merda che merda abbiamo c'è il grano che le barbabietole ok vai se hai 18 di grano zio se per f***o vanno i semi ah i semi proprio zitto di cattiveria no? si va sempre di cattiveria allora questo villaggio non è tanto bello perché uno non hanno la cazzo cazzo l'hanno fatto a coltivare non so c'è l'anima si c'è l'anima la vede come c'è l'anima no c'è l'anima no c'è l'anima in culo zappano con il culo un buco d'un culo no senti niente niente dovete trovare l'atlantide l'atlantide eh cazzo va questo vieni andiamo a trovare il tempio morito andiamo a cercare la ah l'immortaggio mi sei spento il tavolo è scarico provo a uccidermi ragazzi che vi fa di merda vabbè vabbè il video però è durato eh dai raga lo concludo qua solo per brutti sensi di momento ciao raga aspetta ecco iscrivetevi iscrivetevi si si dai iscrivetevi ma i bastardi non è vero iscritti iscritti no dai dagli un nome oggi farò un altro video mi sa e poi si quando sarà caricato il mio tablet dai no lo faremo in un altro modo tipo giù in cantina come Angela è vero è vero prendiamo i operini e prendiamo facciamo la parodia giuntantina di Angela caccavalle raga si aspetta un attimo no raga vabbè quando quando mi si riaffa quando mi è finito internet il video non si può fare in sé male quindi iscrivetevi al canale andate sul canale di Alessandro che di sicuro ci andrete oh metto in descrizione allora si bravo allora e poi l'ultima cosa già si sta puntendo un cazzo di bambù puntendo ahhh e ciao a tutti ragazzi ci vediamo nel prossimo video se lo faccio ciao no lo farà